Ma lo smando al suo luglio, qui non si capisce niente. Martedì 9 marzo, da un momento all'altro, nell'unico centro vaccinale di Reggio Calabria viene annunciato che il vaccino Pfizer è finito. Abbiamo solo vaccino AstraZeneca, somministrabile per chi non ha gravi patologie. Nel caos generale scopriamo che nemmeno Antonino Spirlì, il presidente della regione Calabria, sapeva quello che stava accadendo. Lì, mi sei inalberato perché quando ha saputo che non c'erano più vaccini, mi sei inalberato. Noi non c'erano più vaccini, nessuno me lo dice. No, gli vaccini saranno per io, adesso li vanno, domani li vanno. E invece, ancora oggi, il vaccino Pfizer c'è solo per quegli anziani che hanno già fatto la prima dose.